Dopo veleni di servizi ora c'è la data. La raccolta differenziata porta a porta scatterà in città il 4 dicembre. L'obiettivo spiegato dall'assessore all'ambiente Augusto Penna è quello di raggiungere il 65% di percentuale nei primi mesi di attività. La raccolta prenderà il via dalla periferia il cetacolo di comportamenti incivili, ha denunciato Penna, che annuncia controlli serrati per punire i trasgressori. In campo anche droni e sensori applicati ai bidoncini utilizzati per la raccolta. Oggi abbiamo dato questa data e quindi è la prima volta che diamo una data perché insieme al gestore siamo ragionevolmente sicuri di essere pronti a partire con questo nuovo sistema. Quindi dal 4 dicembre 2017 ci sarà il servizio di raccolta porta a porta che partirà dalle periferie, quindi tutte le periferie e le case sparse saranno servite da questo nuovo servizio, quindi ci sarà l'eliminazione dei bidoni stradali. Dopo 15 giorni di sperimentazione, il servizio partirà anche sul resto della città utilizzando quella che i tattici chiamano manovra avvolgente. Quindi partiremo dalle periferie che sono stati il ricettacolo in questi anni di scariche, di utilizzo improprio dei bidoni che sono lì collocati anche da parte dei cittadini, dei comuni limitrofi alla nostra città. Il servizio partirà raccogliendo tutte le frazioni differenziate di rifiuto, quindi l'umido, il vetro, la plastica e poi ci sarà l'indifferenziato, con un calendario che presenteremo prossimamente in cui presenteremo anche la campagna stampa. I risultati attesi quali sono? Sono ovviamente quello di raggiungere la percentuale di legge, quindi il 65%, ma anche con la possibilità di superarla, perché abbiamo previsto nel contratto un incentivo per il gestore se la percentuale supera quella minima di legge. Quindi il gestore prenderà una quota maggiore, che sarà poi il risultato della vendita della frazione recuperata. Quindi non ci sarà un aggravio per il Comune e per i cittadini e il gestore sarà premiato, perché avendo superato la percentuale minima sulla vendita dei materiali recuperati, otterrà appunto questo incentivo.